Una comunità alloggio per ragazzi difficili dedicata a Rocco Chinnici, il capo del pool antimafia di Palermo assassinato da Cosa Nostra nel 1983. La struttura inaugurata a Somma Vesuviana in provincia di Napoli ospiterà minori che hanno avuto in passato guai con la giustizia, un luogo in cui educatori e ragazzi viveranno condividendo la normalità del quotidiano e mettendo in pratica un progetto sociale individualizzato per ciascuno di loro. A scoprire la targa del centro Tartaruga era presente anche Caterina Chinnici, direttore del dipartimento di giustizia minorile e figlia del giudice. Bellissima oggi questa iniziativa e particolarmente significativa perché ricorda un impegno tutto tondo di un magistrato, prima ancora di un padre, di un uomo, di un componente della società che si è reso conto che per cambiare le cose, per liberare la nostra terra dalla purtroppo influenza della mafia, della criminalità, occorreva lavorare soprattutto per i giovani, per formare le nuove coscienze. Il centro, che mira a togliere manovalanza criminale alla Camorra, ospiterà per ora otto adolescenti maschi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla coesione tra istituzioni, terzo settore e mondo ecclesiale. Ed è un metodo che dobbiamo necessariamente recuperare sempre di più. Credo che in questa giornata di inaugurazione, di memoria di Rocco Quinici, ma anche di inaugurazione di una casa famiglia come la tartaruga, questo diventa un metodo di lavoro.